Promuovere la cultura della prevenzione sin dalla scuola elementare. Un progetto di educazione alla salute partirà a breve nel circolo didattico Eugenio Montale di Scampia per individuare le patologie oculari dei bambini e per informare le mamme sulla vaccinazione contro il virus della rosolia. I bambini coinvolti ci siamo messi d'accordo di monitorare i bambini di quarta e quinta elementare in modo tale da poter passare poi la notizia di quello che abbiamo fatto alla scuola media. Abbiamo alcune scuole medie di riferimento del territorio con le quali lavoriamo in simbiosi e quindi i bambini saranno circa 300. Pensiamo che la prevenzione sia una grande arma da utilizzare. Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune di Napoli con il Rotary Club di Napoli Ovest. Capire la realtà di Scampia coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio. Da questo lavoro è nato il contatto con l'assessorato all'istruzione del Comune di Napoli. Io credo che oggi per fare in sanità un discorso di programma e anche e soprattutto in rapporto alla cosiddetta spending review occorre fare un discorso di prevenzione. Tutte le patologie se vengono colte al momento giusto e in epoca giovanile permettono oggi nella stragrande maggioranza dei casi non solo di essere curate poi al momento opportuno ma soprattutto poi prevenute prima che la patologia diventi manifesta. Un'equip di medici e oculisti visiterà su richiesta i bambini presso le scuole. Oggi tra l'altro parliamo in una giornata particolare, io sono qui perché in questi momenti l'assessore Palmieri è a fianco della famiglia del piccolo Patrizio, il bambino che è morto ieri purtroppo nella scuola del Vomero. Penso che l'altro ruolo del Comune è di mettere in sinergia quelli che sono i privati, in questo caso Rotary che vuole in qualche maniera esprimere con le proprie azioni, prevenzione, informazione, cultura, con le scuole e quindi con il pubblico, in un'integrazione pubblico, privato, sociale e scuole che non comporti la delega o il disimpegno del pubblico ma che veda il pubblico copartecipe degli indirizzi degli interventi. Insieme all'ASCO, come assessorato alla scuola di istruzione, stiamo provando a capire come lanciare un grande percorso formativo per tutte le scuole territorio, statali e comunali sulle manovre salvavita proprio per evitare, anche se poi c'è sempre la fatalità, ma comunque per evitare il più possibile che episodi come quelli di ieri possano ripetersi.